L'idea Lara Ferrari, docente di scuola primaria all'Istituto Polo II di Veglia, è venuta da un fatto di cronaca per potenziare una metodologia didattica fortemente innovativa, mirata ad insegnare ai bambini diversamente abili i concetti di rischio e pericolo. Il tutto apprendendo spunto dall'applicazione dei regolamenti comunitari del RIC e CLP ai più sconosciuti per sviluppare, attraverso nove pittogrammi, l'idea del rischio e del pericolo che si nascondono dietro gesti di vita quotidiana del bambino, a scuola e a casa. Un progetto che le è valso il riconoscimento di ben quattro ministeri ad eleggere la vincitrice del primo premio assoluto di un concorso nazionale di didattica. Hanno utilizzato una comunicazione particolare, la comunicazione aumentativa alternativa, che non elimina la loro comunicazione di base, però loro si sono serviti di queste tessere simboliche e semplificative e sono riusciti ad assimilare i concetti di rischio e pericolo che erano alla base appunto dei due regolamenti che prendevamo in considerazione. Una comunicazione a misura di bambino frutto di un percorso didattico mirato all'inclusione scolastica e sociale dei soggetti disabili. Devo ringraziare pubblicamente ovviamente tutti i docenti di sostegno che mi hanno un po' seguito. Sono stato anche fortunato perché ho trovato terreno fertile in queste persone che hanno avuto delle competenze tali da poter poi svolgere dei percorsi differenziati e diciamo anche specifici.